Benvenuti nel podcast di Caliburn, dove il Medioevo è infinito. Siamo giunti al trentunesimo canto dell'inferno. Qui Dante e Virgilio arrivano al pozzo che porta al nono cerchio dell'inferno, quello più basso. Qui Dante incontrerà i giganti e uno di loro, Anteo, li porterà giù nel lago del Cocito. Ed ora iniziamo con la lettura. Noi demmo il dosso al misero vallone, su per la ripa che il cinge d'intorno, attraversando senza alcun sermone. Qui vera men che notte e men che giorno, sì che il viso mandava innanzi poco. Ma io sentii suonare un alto corno, tanto che avrebbe ogni tuon fatto fioco, che, contra sé la sua via seguitando, dirizzò gli occhi miei tutto ad un loco. Dopo la dolorosa rotta, quando Carlo Magno perdè la santa gesta, non sonò sentirebillmente Orlando. Poco portai in là volta la testa, che me parve vedere molte alte torri. On Dio, maestro, di, che terra è questa? Ed egli a me, però che tu trascorri per le tenebre troppo da lungi, avvien che poi nel immaginare abborgli. Tu vedrai, ben, se tu la ti congiungi, quanto il senso si inganna di lontano, però alquanto più te stesso pungi. Poi, caramente, mi prese per mano e disse, Pria che noi siamo più avanti, a ciò che il fatto menti paia strano, sappi che non son torri, ma giganti, e son nel pozzo intorno dalla ripa, dall'umbilico in giuso tutti quanti. Come quando la nebbia si dissipa, lo sguardo a poco a poco raffigura ciò che cela al vapore che l'aere stipa. Così, forando l'aura grossa e scura, più e più volte appressando ver la sponda, fuggì e mi errore e crescì e mi paura. Qui Dante riprende il racconto con il rimprovero che Virgilio gli aveva fatto al termine del canto precedente, dicendo appunto che la medesima lingua, cioè quella di Virgilio, prima lo fece vergognare, ma poi pose anche rimedio a questa vergogna. E paragona questo alla lancia di Peleo, il padre di Achille, che poi diede appunto al figlio, la quale lancia aveva una caratteristica che con il primo colpo feriva e con il secondo colpo guariva. Dante e Virgilio proseguono nel loro cammino silenziosi verso il pozzo che conduce al cerchio successivo. Dante nota che la luce attorno a sé è una luce quasi crepuscolare, non è né notte né giorno. E ad un certo punto sente il suono di un corno, fortissimo, così forte da superare anche il rombo di un tuono. E a Dante ricorda il suono del corno di Orlando nella rotta di Rozzisvalle quando venne attaccato dai Saraceni. Si tratta del famosissimo episodio della Chanson de Roland, il quale, subito l'attacco dei nemici, suonò il suo corno per richiamare le truppe di Carlo Magno e lo suonò talmente forte da squarciare le vene del suo collo e addirittura le tempie. Dante a questo suono di corno volge la sua attenzione in avanti e vede in lontananza delle alte torri o almeno quelle che secondo lui sono delle alte torri. Dante quindi pensa di trovarsi di fronte ad un'altra città dopo le mura della città di Dite e quindi chiede a Virgilio che città è questa? E Virgilio gli risponde che la sua vista è ingannata da questa oscurità e che quando si avvicineranno capirà che non si tratta di una città che non sono delle torri. E quindi prima di proseguire Virgilio prende per mano Dante e gli spiega di che cosa si tratta probabilmente per evitargli un improvviso spavento. Quelli che vede in lontananza in realtà non sono torri ma sono dei giganti che sono conficcati nel terreno fino all'ombelico e avvicinandosi sempre di più al pozzo Dante si accorge che effettivamente non sono torri ma sono giganti e a Dante quella visione ricorda molto la città di Monteriggioni tutta quanta circondata di alte torri come possiamo vedere tutt'oggi ed ora continuiamo con la lettura e io scorgea già dal cun la faccia le spalle e il petto e del ventre gran parte e per le coste giù ambo le braccia Natura certo quando lasciò l'arte dissi fatti animali assai fe bene per torre tali esecutori a Marte e se la d'elefanti e di balene non si pente chi guarda sottilmente più giusta e più discreta la ne tene che dove l'argomento della mente s'aggiugne al malvolere e alla possa nessun riparo vi può far la gente la faccia sua mi parea lunga e grossa come la pina di San Pietro a Roma e a sua proporzione erano le altre ossa sì che la ripa che era perizoma dal mezzo in giù ne mostravano ben tanto di sovra che di giugnere alla chioma tre frison severia un dato malvanto però chi io ne vedea trenta gran palmi dall'occo in giù dove omo affibia il manto Raffaele mai a me che zabi al mi cominciò a gridare la fiera bocca cui non si convenia più dolci salmi e il duca mio ver lui anima sciocca ti enti col corno e con quel ti disfoga quando ira o altra passione ti tocca cercati al collo e troverai la soga che il tien legato o anima confusa e vedi lui che il gran petto ti doga poi poi disse a me e gli stessi s'accusa questi è Nembrotto per lo cui malcoto per un linguaggio del mondo non s'usa lasciando stare e non parliamo a voto che così è a lui ciascun linguaggio come il suo ad altrui che a nullo è noto Dante inizia a descrivere il primo gigante che vede e inizia facendo una constatazione dice infatti che la natura ha fatto molto bene a smettere di creare animali di questo genere in quanto animali di questa stazza diventavano tutti ministri di Marte cioè dediti alla forza brutta infatti se bene la natura non si pente di continuare a creare comunque esseri giganteschi come le balene o gli elefanti chi sa ragionare sottilmente può notare che dove la razionalità si unisce alla volontà malvagia e alla potenza fisica le persone non possono difendersi in alcun modo e appunto per questo ha smesso di creare i giganti Dante poi inizia a spiegare quali erano le proporzioni di questi giganti facendo dei paragoni che il lettore potrà ben comprendere ad esempio la faccia del primo gigante che vede è a grande quanto la pigna che si trova a San Pietro a Roma ai tempi di Dante infatti sulla fonte nell'atrio di San Pietro vi era una grossa pigna proveniente probabilmente dal mausoleo di Adriano o dal Panteo ed era appunto una pigna di bronzo e adesso la troviamo nei giardini dei musei vaticani ed è appunto alta circa 4 metri e mezzo quindi immaginate le proporzioni di questo gigante Dante però non si accontenta di descrivere le proporzioni del volto del gigante ma ci dice che dalla cintola in su cioè la parte visibile a Dante era più alta di tre frisoni posti uno sopra l'altro i frisoni cioè gli abitanti della frigia erano appunto famosi per essere gli uomini più alti conosciuti a quel tempo non contento Dante ci fornisce un'altra misurazione un po' più canonica ci dice infatti che dalla cintola a dove si affibbia il mantello cioè alle spalle il gigante era alto almeno 30 gram palmi il palmo era una misura lineare di circa 24 centimetri il gram palmo valeva un po' di più di 24 centimetri quindi si può dire che dalla cintola alle spalle questo gigante era alto 7 metri il gigante accortosi dei due visitatori inizia a parlare in una lingua strana incomprensibile è un po' come per quanto aveva detto Pluto al canto settimo i commentatori e gli studiosi hanno cercato di dare una spiegazione a quanto dice questo gigante si pensa infatti che derivi dall'ebraico ma in qualche modo modificato e che voglio dire più o meno giganti che è questo gente lambisce la dimora santa ma perché questo gigante parla così perché si tratta di Nembroth che era un personaggio biblico era il re di Babilonia che fece costruire la torre di Babele dalla cui caduta derivò la confusione delle lingue non si trattava quindi originariamente di un gigante ma questa confusione è dovuta alla versione latina della Bibbia detta Vetus o Antiqua che è precedente a quella della Vulgata dove appunto viene riferito come gigante e superbo contro Dio Virgilio a questo punto redarguisce Nembroth chiamando appunto anima sciocca dicendo di evitare di parlare tieniti il tuo corno e continua a suonarlo Virgilio proprio lo tratta come un bambino o come qualcuno che non padroneggia le proprie facoltà mentali in quanto Nembroth è irato e gli dice di cercarsi al collo la corda che tiene legato il corno che si trova di fronte al suo petto e di sfogarsi con quello quando l'ira o un'altra passione lo travolge Virgilio poi si rivolge a Dante dicendogli appunto che questo qui è Nembroth e come si è detto è colui che fece la torre di Babele e di lasciarlo stare di non parlare a lui perché sarebbe totalmente impossibile perché lui non capisce le tue parole come tu non capisci le sue ed ora continuiamo con la lettura facciamo dunque più lungo viaggio volti a sinistra e al trar di un balestro trovammo l'altro assai più ferro e maggio a Cigner lui qualche fosse il maestro non so io dire ma è il Tenea soccinto dinanzi l'altro e dietro il braccio destro d'una catena che il Tenea ha vinto dal collo in giù sì che in su lo scoperto si ravvolgea infino al giro quinto questo superbo volle essere esperto di sua potenza contra il sommo giove disse il mio duca ondelli ha cotal merto fialte a nome e fece le gran prove quando i giganti fer paura a dei le braccia che il menò giamai non muove e io a lui se esser puote io vorrei che dello smisurato briareo esperienza avessere gli occhi miei ondelli rispose tu vedrai anteo presso di cui che parla è disciolto che ne porrà nel fondo d'ogni reo quel che tu vuoi vedere più là è molto ed è legato e fatto come questo salvo che più feroce parne il volto non fu tremoto già tanto rubesto che scotesse una torre così forte come fialte a scuotersi fu presto all'or temettio più che mai la morte e non vera mestiere più che la dotta se io non avessi visto le ritorte Dante e Virgilio proseguono sempre verso sinistra e poco dopo trovano un altro gigante più smisurato ancora e molto più feroce questo gigante aveva il braccio sinistro legato davanti e il destro dietro la schiena con una lunga e pesante catena che partiva dal collo e faceva cinque giri attorno al suo corpo almeno fino a dove si vedeva Virgilio spiega a Dante che questo gigante è Effialte che fu uno dei giganti più arditi contro Giove nella Titano Machia cioè nella battaglia di Flegra ci troviamo dunque di fronte a due esempi di superbia contro Dio e contro gli dei fatti appunto dai giganti Sennembrot infatti è un esempio di superbia contro Dio e Fialte è un esempio di superbia della mitologia classica contro gli dei contro Giove a questo punto Dante fa una richiesta a Virgilio vorrebbe vedere lo smisurato Briareo che nella tradizione classica era un gigante con ben 50 teste e 100 braccia si capisce dunque perché Dante voglia vedere questo gigante era qualcosa di incredibile ma Virgilio come la mamma che va a fare la spesa col figliolo e non vuole prendergli l'ovetto Kinder gli dice che non abbiamo tempo per andare a vedere Briareo perché è più lontano accontentati di vedere Anteo Anteo è libero e può portarci giù sul fondo del pozzo a questo punto Effialte si scuote e sembra proprio un terremoto fortissimo tanto è vero che Dante ha paura ha paura di morire ma sapendo che è legato con delle forti catene si tranquillizza ed ora continuiamo con la lettura e terminiamo il canto noi noi procediamo più avanti a lotta e veniamo a Danteo che ben cinque alle senza la testa uscìa fuor dalla grotta o tu che nella fortunata valle che fece Scipion di gloria reda quando Annibal con suoi diede le spalle recasti già mille leon per preda e che se fossi stato all'alta guerra dei tuoi fratelli ancora par che si creda che avrebbero vinto i figli della terra mettine giù e non te ne vegna schifo dove cocito la freddura serra non ci fare irre a tizio né a tifo questi può dar di quel che qui si brama però tichina e non torcerlo grifo ancora ti può nel mondo rendere fama che vive e lunga vita ancora aspetta se innanzitempo grazia a sé non chiama così disse il maestro e quelli in fretta le man distese e prese il duca mio onda Ercule sentì già grande stretta Virgilio quando prendersi sentìo disse a me fatti qua sì che io ti prenda poi fece sì c'un fascio era egli ed io qual pare riguardarla carisenda sotto il chinato quando un nuvo alvada sovressa sì che della incontro penda tal parve anteo a me che stava a bada di vederlo chinare e fu tal ora che io avrei voluto ir per altra strada ma lievemente al fondo che divora lucifero con giuda ci sposò né sicchinato li fece dimora e come albero in nave si levò dante virgilio quindi ora giungono di fronte a danteo e dante ci dice che era alto quasi cinque alle che era una misura della fiandra più o meno corrispondente ai trenta gran palmi cioè sette metri e qui virgilio cerca in qualche modo tra virgolette di sedurre anteo per fargli fare quello che vuole lui cioè essere preso e posto giù nel nel cocito inizia dunque un discorso che è una vera e propria captatio benevolentie anteo infatti era un gigante della mitologia classica ma a differenza degli altri giganti che avevano combattuto contro gli dei anteo era di una generazione successiva era figlio di Nettuno e della terra si nutriva di carne di leone e abitava appunto nel nord dell'Africa la sua forza derivava appunto dalla madre da terra infatti se si distendeva al suolo recuperava tutta la sua forza venne infine sconfitto da Ercole il quale riuscì a tenerlo sollevato dal suolo e poi lo uccise Virgilio quindi inizia questa captatio benevolentia ricordando la terra dove era vissuto e che appunto era la stessa terra dove era avvenuta la battaglia di Zama poi inizia a lodare il gigante dicendo che se avesse combattuto l'alta guerra cioè la titanumachia contro gli dèi probabilmente avrebbero vinto i giganti e gli chiede dunque di deporli giù nel lago di Cocito e per puntare ancora di più sull'amor proprio di questo gigante mi dice non costringerci a rivolgerci a Tizio e a Tifeo che erano altri due giganti della mitologia classica e poi conclude facendo leva sulla vanità di questo gigante dicendo appunto che Dante è un vivo e può tornare sulla terra e rendergli una fama eterna con la sua opera Anteo quindi prende Virgilio e Virgilio prende Dante e assieme vengono calati giù nel Cocito e a Dante questa visione del gigante che si avvicina a lui gli ricorda la torre della Garisenda che è una torre a Bologna pendente e quando la guardi dalla parte in cui pende e vedi passare sopra una nuvola sembra quasi che ti cada addosso Dante e Virgilio quindi vengono posti dolcemente sul fondo dell'inferno e termina così il trentunesimo canto dell'inferno un saluto da Caliburn e ci sentiamo nel prossimo episodio